Buongiorno a tutti da Arpa Piemonte. Come di consueto andiamo a vedere la situazione meteorologica per il prossimo fine settimana partendo dalle mappe della pressione in quota. Nella giornata di sabato, un flusso di correnti secche nord occidentali in quota favorirà tempo stabile e soleggiato sulla nostra regione, fatta eccezione per qualche velatura al primo mattino e qualche addensamento cumuliforme a ridosso di Alpi Le Pontine e Pennine. I venti in alta montagna soffieranno da nord-nord-ovest moderati in mattinata e sarà possibile qualche rinforzo nelle vallate alpine settentrionali per locali e temporanee condizioni di fiume. La quota dello zero termico si alzerà in modo considerevole dai 3.000 m del mattino fino ai 3.800 m della serata con le temperature che saranno in marcato rialzo sia nei valori massimi che nei valori minimi. Domenica torna a rinforzarsi progressivamente il campo di alta pressione sul Piemonte, favorendo ancora una giornata di tempo stabile e prevalentemente soleggiato, anche se nelle ore centrali il transito da ovest di nubi alte e sottili potrà a tratti annuvolare in maniera consistente il cielo. I venti soffieranno deboli da ovest mentre la quota dello zero termico continuerà a salire avvicinando i 4.000 m nelle ore più calde della giornata. Le temperature minime sono attese ancora in aumento di 1-2 gradi centilidi mentre le massime non avranno variazioni di rilievo rispetto alla giornata precedente. E con questo è tutto, per ulteriori informazioni consigliamo di consultare ogni giorno gli aggiornamenti meteo sul sito di Arpa Piemonte o direttamente alla pagina Meteo di Vetta dove potrete trovare tante utili sezioni dedicate agli amanti della montagna e per essere sempre informati scaricate alla nuova app di Meteo Vetta. Buon fine settimana!